Buongiorno a tutti, sono Giacomo Carrozza e vi inviterei di riprendere il tema dello spazio, di mettere delle tute spaziali e di accompagnarmi in un piccolo viaggio che inizia con un passo introspettivo. Un passo introspettivo ora vi spiegherò perché che inizia con la mia educazione, quindi salterò alcuni step ma molto rapidamente, una triennale in economia e commercio, un master in digital economics in H-Pharm, specialistica in business administration, selezionato e partecipato a un corso sull'intelligenza artificiale dell'MIT e altre attività per mio conto per approfondire tematiche di machine learning e artificial intelligence. Per poi passare ai miei extras, tutto ciò che ho fatto parallelamente ai miei studi e al mio lavoro, quindi volontariato, ambassador per Google per un anno all'università, a insegnare inglese in Cina per un paio di mesi e poi la costellazione di nane rosse che vedete qui, che sono TEDx, organizzatore di TEDx Torvergata e collaboratore di altri eventi un po' in giro per tutta l'Italia. E poi attività in ambito startup, varie ed eventuali, organizzatore, collaboratore, mentor a programmi, progetti ed acceleratore, tra cui Bocconi, H-Pharm e simili. Lo che mi permette di pagare le bollette di essere qui sostanzialmente tra le altre cose e quindi le mie attività lavorative. Ho fondato un paio di startup, ho fondato di Talent Garden Genova, già speso tre mesi a San Francisco grazie anche a una borsa del ministro degli affari esteri e ultimamente Accenture Digital, dove tra le altre cose mi occupo sempre di più di proporre soluzioni ai nostri clienti che facciano leva soprattutto sulle tecnologie esponenziali di cui ora andremo a parlare. E poi recentemente confermato come docente e mentor su metodologie di Lean Startup per il programma di accelerazione del Startup Training del Crius Bocconi. Questo viaggio introspettivo mi serve per potervi introdurre a quella che è la mia comprensione del problema del cambiamento climatico. E a quello che riesco a vedere io per me è un cambiamento che siamo chiamati a risolvere qui oggi nello short run e vi spiego perché. Nel long run ci sono già entità e personaggi che stanno facendo grandissime cose, che hanno semplicemente bisogno di tempo per poter scalare e per poter attecchire. La Cina con i suoi pannelli solari, Tesla, Elon Musk, le Gigafactory per le sue nuove batterie, lo storage dell'elettricità e la Francia con il suo primo reattore a fusione pronto fra una ventina d'anni, per quanto probabilmente non a bilancio positivo. Qual è il problema? Il problema è dargli tempo, il problema è trovare una soluzione che funzioni in 5, 10, 15 anni al massimo. E da qui nasce il mio progetto che è Inerzia, la mia idea, ribattezzato un'applicazione esponenziale perché fa leva su tre tecnologie esponenziali, intelligenza artificiale, IoT e blockchain. In tre stadi diversi, prendendo in considerazione i diversi livelli di maturazione e il livello di complessità di integrazione a livello pratico e tecnico di ciascuna tecnologia nelle tecnologie perché le hanno precedute. Più nel dettaglio sono tre i componenti. Nei primi due anni sviluppare un cervello, un'intelligenza artificiale, delle reti neurali su software per l'efficientamento energetico, capace di ridurre i consumi di qualunque hardware ad oggi che possa rannarle, quindi computer, server e cellulari. Negli anni successivi, 3-5 anni da oggi, l'IoT invece attecchirà, aderirà e sarà una realtà più consolidata, potendo spostare questo cervello nella domotica, per esempio, quello che Nesta ha già iniziato a fare qualche anno fa, ma scalato sui nostri frigoriferi, su qualunque altro macchinario, fino all'industria del settore secondario.